Si è impossessato di 3.000 euro sottraendoli dai parcometri di Monte Rosso, ora però è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari, a finire in manette a un vigilo urbano in servizio nel borgo Rivierasco. Ad accorgersi che nei parcometri qualcosa non andava, è stato proprio il neo comandante della Polizia Municipale che ha avviato immediatamente degli accertamenti, poi in concerto con l'amministrazione comunale e i carabinieri che hanno indagato, si è arrivati alla conclusione della vicenda. Le immagini della videosorveglianza di fatto hanno incastrato il vigile urbano che tramite una chiave apposita, trovata poi nelle sue disponibilità, apriva il parcometro e si impossessava del contenuto. E per le vie del borgo traspare una certa amarezza. In merito alla vicenda, l'amministrazione comunale in una nota ha precisato. Riteniamo che questa triste vicenda di fatto dimostri che i comuni, quando gestiti da amministratori e funzionari onesti, possano individuare e isolare quei dipendenti che non considerano il lavoro nel settore pubblico come un servizio alla collettività e al territorio. L'amministrazione comunale, conclude la nota, oltre a richiedere la restituzione di quanto, indebitamente sottratto dal dipendente infedele, darà mandato al proprio segretario comunale di avviare la relativa contestazione formale dell'illecito in modo che vengano applicate le sanzioni disciplinari del caso nel più breve tempo possibile, chiedendo comunque già da subito la sospensione dal servizio del dipendente.